si chiama zafira ma con le tre precedenti generazioni della monovolume tedesca non ha nulla a che spartire il nuovo opel zafira life si rivolge a chi cerca tantissimo spazio ma non intende assolutamente rinunciare alle dotazioni di un'auto tradizionale ve la racconto in questo nuovo video ma prima se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale youtube di scioccare a cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno di i nostri nuovi contenuti il motivo di un cambio di rotta così deciso è presto spiegato le vendite delle monovolume compatte sono in continuo calo da diversi anni ormai mentre al contrario quelle dei molti spazi di segmento di come il nuovo zafira life continuano a crescere forse ci sarebbe da discutere sulla scelta di conservare il nome zafira per un'auto così apparentemente diversa in realtà i punti in comune con la vecchia zafira sono tanti ad esempio la flessibilità dell'abitacolo parlando di estetica le forme di zafira life non si discostano molto da quelle delle tre cugine peugeot citroen e toyota con alcune peculiarità che la identificano immediatamente come opel parliamo del frontale con una classica calandra sviluppo orizzontale con listello cromato il logo del fulmine al centro e i gruppi ottici all'oxeno con aletta cromata che va a ricordare la firma luminosa delle opel le luci diurni a led però sono state spostate in basso lateralmente si notano gli sbalzi ridotti e il passo lungo mentre al posteriore protagonista il grande portellone incernirato in alto gli interni hanno un'impostazione piuttosto semplice derivata quasi totalmente da quella del vivaro con un'attenzione migliore alle finiture è il caso per esempio degli inserti cromosatinati che troviamo sulle bocchette dell'aria sui tastini del climatizzatore e anche intorno al pulsante d'accessione e alla leva del cambio che in realtà è un selettore è un impostazione piuttosto semplice lineare che privilegia la funzionalità e che comunque non manca di tecnologia perché al centro della plancia abbiamo un sistema di infotainment connesso con schermo forse sia un po piccolo da 7 pollici ma che funziona bene ha un touch capacitivo una finitura opaca che non trattene le ditate e i tasti fisici per raggiungere le funzioni principali tutte le funzioni ci sono navigatore connesso carplay e android auto con il filo anche mirror link e la telecamera a 180 gradi che però sul nostro esemplare non è presente davanti al conducente c'è una strumentazione classica con un piccolo display al centro che raggruppa alcune schermate tra cui il computer di bordo presente l'head up display che proietta le informazioni essenziali della guida su un piccolo supporto in plastica trasparente sopra il cruscotto grazie alla lette dati anche possibile contare sulla chiamata automatica di emergenza Zafira Life è disponibile in tre lunghezze 4,60 m 4,95 m e 5,30 m rispettivamente small, medium e large in questo video noi abbiamo a disposizione la versione più lunga e spaziosa con una lunghezza di 5,30 m una larghezza di 1,92 m e un passo di 3,28 m interessante l'altezza massima che è ridotta a 190 cm una scelta fatta per non toccare nei parcheggi sotterranei ad altezza ridotta il bagagliaio davvero ciclopico con una capacità massima di oltre 4.500 litri rimuovendo le poltrone posteriori e un minimo di circa 1000 litri sotto la cappelliera con la terza fila in posizione. Abbiamo parlato di flessibilità ed effettivamente Zafira Life può accogliere fino a nove persone con tre file di sedili possiamo optare per una panchetta anteriore con due posti oltre al sedile del conducente possiamo optare per una panchetta centrale da tre posti e poi un'altra panchetta posteriore da altri tre posti noi abbiamo scelto nel nostro caso una configurazione 2 2 3 quindi un totale di sette posti con la possibilità di trasformare questa vettura in un vero e proprio salotto perché perché questo bracciolo porta oggetti all'occorrenza si può trasformare in un tavolino senza dimenticare che poi abbiamo anche i tavolini dietro gli schienali dei sedili anteriori e la possibilità di caricare colli lunghi fino a 3 metri e 50 senza nemmeno abbattere lo schienale del sedile anteriore. Attingendo dalla lista degli optional si possono poi avere la presa 220 e diverse prese usb sparse qua e là nell'abitacolo. Elementi non comuni sono le porte laterali scorrevoli elettricamente azionabili tramite la maniglia, il telecomando o un gesto del piede sotto il pianale, il tetto panoramico in vetro con illuminazione a led, il climatizzatore bizona con possibilità di gestione dei flussi anche dalla seconda e dalla terza fila e i tanti vani portoggetti tra cui quelli nei pannelli porta, sulla plancia, davanti al conducente, davanti al passeggero e nel bagagliaio. Le due file di sedili posteriori sono asportabili con uno sforzo non troppo pesante. Opel Zafira Life si rivolge a una vasta platea di clienti, Opel ne ha individuati addirittura quattro, due privati e due invece business. Per quanto riguarda i privati ha individuato come clienti principalmente le famiglie numerose ma anche quei privati che utilizzano una vettura di questo tipo per esempio per scopi di attività sportive e hanno dunque bisogno sì di tanto spazio ma anche di un buon comfort. Mentre per quanto riguarda i clienti business da una parte ci sono i gestori delle flotte oppure i tassisti che hanno bisogno di tanto spazio e dotazioni di sicurezza e di comfort interessanti. L'ultima categoria di cliente business riguarda invece i cosiddetti VIP ovvero personaggi famosi che vanno alla ricerca di uno shuttle con dotazioni premium e magari anche un look più sofisticato del classico pulmino. Ed effettivamente l'esemplare della nostra prova con questo colore nero e questo allestimento business elegance sembra proprio fatto per i VIP. Da top di gamma è anche la nostra motorizzazione 2000 BlueHD 180 da 177 cavalli. Un quattro cilindri devo dire abbastanza silenzioso fluido nell'erogazione e in grado di garantire comunque un buono sprint e una buona brillantezza a questo tipo di veicolo anche perché parliamo di un'accelerazione 0-100 coperta in un tempo minimo di 8,8 secondi e una velocità massima di 185 km orari. Chiaramente questi valori variano leggermente in base al peso della vettura che è variabile per quanto riguarda la lunghezza abbiamo la lunghezza M e L e poi variabile anche in base al numero di sedili scelti. La coppia è corposa 400 Nm erogati fin da 2000 giri, un regime di rotazione non troppo elevato ma che comunque si unisce ad una buona fluidità nell'erogazione e che garantisce quindi anche consumi abbastanza contenuti perché la casa dichiara 5,8-5,4 litri di gasolio nel ciclo WLTP mentre noi nella nostra prova abbiamo rilevato un consumo leggermente inferiore ai 7 litri per 100 km che comunque considerando la stazia del veicolo e le buone prestazioni non sono affatto male. Bene anche il feeling di guida con un rollio ridotto e un'insonorizzazione piuttosto curata ma la posizione di guida ed una migliorabile precisione dello sterzo tradiscono un po' quella che è la vera natura per cui è nato Zafira Life ovvero essere la versione passeggeri di Opel Vivaro, un veicolo che nonostante la piattaforma automobilistica perché abbiamo la EMP2 che dà i natali anche a Peugeot 3008, Peugeot 5008 a quella dello shuttle come destinazione principale di utilizzo. Per il resto si apprezzano l'ottima visibilità che si gode da ogni angolazione, ecco bisogna stare molto attenti al posteriore perché di serie abbiamo solo i sensori di parcheggio e non la telecamera, una dotazione che secondo me è indispensabile per questo tipo di veicoli specialmente quando si viaggia con tanti passeggeri o a pieno carico. Abbiamo poi un cambio che è davvero davvero molto interessante a livello di prestazioni perché è l'AT8 di gruppo PSA, un convertitore di coppia a otto rapporti che garantisce cambiate impercettibili e un'intelligenza davvero notevole. Il cambio si gestisce tramite un rotore a impulso elettrici, in alternativa la versione con cambio manuale con 150 cavalli avrebbe la leva del cambio qua rialzata quindi è un altro punto a favore. Non mi piace invece particolarmente il fatto che la pedaliera sia leggermente disassata verso destra, infatti molto spesso, almeno all'inizio, mi sono ritrovato a pigiare per sbaglio il pedale del freno quando invece volevo schiacciare l'acceleratore. Infine la dotazione di ADAS è abbastanza completa, ci sono la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo, il rilevatore di stanchezza, gli abbaglianti automatici con fari allo xeno e il controllo dell'angolo cieco. C'è anche l'avviso di superamento di corsia che però non agisce sullo sterzo. Il prezzo di Opel Zafira Life è abbastanza in linea con la concorrenza, si parte da 37.000 euro per la versione small con variante di allestimento edition e motore 1.5 diesel da 120 cavalli e si arriva a 48.500 euro per il nostro allestimento business elegance e motore 2.000 da 177 cavalli. Non è la Zafira che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi vent'anni ma è anche giusto così perché i tempi cambiano e anche il mercato si evolve di conseguenza. Per tutti i dettagli di Zafira Life mi rimando come sempre all'articolo completo che trovate su shockcar.news. Non dimenticatevi se non l'avete ancora fatto di seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e da poco anche TikTok e non dimenticatevi di iscriverci se volete per qualsiasi curiosità o domanda sul numero sms o whatsapp che trovate qui sotto. Noi ci vediamo alla prossima prova!